biglietti buongiorno c'è la biglietto prossima fermata next stop castellanza così biglietto non solito fa la multa è otto minuti che io aspetto otto minuti di ritardo la signora ha chiesto a moglie 8 minuti che io aspetto il treno mi sa che sua moglie si sente male allora biglietto non fornisce o no se vuole mi faccia scendere tanto io scendo a castellanza allora si mi segua la faccio scendere